E' una frase che ho ripetuto spesso, puoi essere streamer e fare youtube, ma non è detto che tu possa fare lo streamer essendo youtuber, perché tanti sono solo edit, tanti arrivano qua, ti aspetti che siano in un modo perché li vedi così nei video, tutti editati, tutti belli e invece alla fine cadono gli altarini perché qui bene o male devi fare live lunghe, non esistono live corte. Quindi viene fuori quello che sei, punto e stop. Per forza, per forza, infatti molti youtuber o tiktoker, perché non so se hai visto, tanti tiktoker stanno a venire su Twitch. E' già parlato di questo, alcuni di loro hanno avuto il coraggio, becero, di affermare che noi su Twitch portiamo solo gameplay e sappiamo solo giocare i videogiochi. Sì, guarda io ho avuto una battaglia una volta. E che loro cosa vengono a fare qui su Twitch? Non dire un cazzo, fanno le live che fanno su Instagram e su TikTok, che sono prive del contenuto assoluto, che mi stai venendo a dire a me che non ho contenuti? Tu che non ti si conosce come sei perché fai tac tac e c'è la musichetta o fai ov? Ma io certi manco sapevo la voce, ti dico la verità. Hai capito? Ogni tanto quando scopro la voce in tiktoker sono soddisfatto io. E' quello che mi chiedo, e mi sono sempre chiesto, come fanno a fidelizzare il pubblico? Se il pubblico non sa manco come sei fatto, cosa pensi, cosa... Ma infatti è poco fidelizzato. Chi è fidelizzato? A Matzei perché faceva YouTube e a tutti l'altri del gruppo Matzei? O quelli che già facevano YouTube, l'altri? Non fanno numeri. Ma io ho visto, guarda, ho visto una live dei ragazzi che io poi gli sono andato contro, perché sempre su sta cosa... No, Twitch è diverso, io poi mi sono incazzato. Sono andato a live di questi e su sei milioni, perché mi pare c'erano sei milioni di follower, I live ce n'erano cento e io dico, beh, c'è qualcosa che non quadra. Che non va, eh, no, non c'è coinvolgimento sugli altri social, serve il coinvolgimento, ragazzo. Ma no, ma poi su tiktok, edo, poi a voi popolarità, tutti possono avere popolarità su tiktok. Io ho visto un amico mio che, te giuro, lavorava, mi ricordo, di Pacoin qui al supermercato, mi fa, vabbè, Rubì, a te mi scrisse, ancora mi ricordo, fa, Rubì, adesso te posso fare un autografo. Ma in che senso? Scema, non mi hai visto? Eh, che incredibile, io c'ho da lavorare, c'ho qua. Fa, ma guardami un po' su tiktok quanta gente mi segue, più delle su YouTube. Ho detto, frate, te prego. Frate, te prego. Ma che cazzo di weird flex? Cioè, te prego. Sembrano i miei weird flex quando sono completamente tiktok. Ma no, ma io lì pensavo che stava a scherzare, cioè, io mi t'ho messo pure a ridere, invece era serio, era serio. Eh, vabbè, cosa devo dire? Se la gente è convinta che i follower possano elevarti sopra ad altri, mi dispiace per voi. Ma ce ne stanno tanti, eh, tanti, ma tanti. Non funziona così nella vita, in generale. No, i follower non ti rendono persone migliori. Se siete merde, rimarrete merde. No, i follower non ti rendono persone migliori. 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 Grazie a tutti.